Un saluto a tutti gli spettatori del Sottosopra, oggi siamo qui con la preside del nostro istituto. Salve, buongiorno a tutti e grazie per avermi chiamato. Oggi c'è stata l'inaugurazione dei grani digitali, alla quale hanno partecipato numerose imprese. Pensa sia possibile fare impresa a Foggia? Oggi è stata una bella giornata, una giornata di festa, una giornata di partecipazione e condivisione di aspettative, di idee, di programmazione. Penso sia possibile. Io sono sempre speranzosa e vedo il mondo con ottimismo generalmente. Si può, si può fare, bisogna crederci, forse bisogna lavorare di più rispetto ad altre realtà, però sì, si può fare. E invece pensa sia possibile, pensa che questo progetto possa aiutare i ragazzi ad entrare nel mondo del lavoro? Sì, la scuola spesso è scollata dal mondo del lavoro ed è proprio questo il gap che noi vorremmo e dovremmo superare. Questo salto lo dobbiamo colmare, questo divario lo dobbiamo colmare e iniziamo con quello che sappiamo fare, ovviamente chiedendo aiuto a chi ne sa più di noi. Quindi abbiamo coinvolto le aziende, abbiamo coinvolto dei partner, abbiamo coinvolto il territorio e anche le altre istituzioni, in modo tale che si possa costruire e cercare di mettere dei mattoncini che poi saranno la strada, indicheranno la strada ai nostri giovani e alle nostre leve appunto del futuro. Perfetto, grazie e buona continuazione.